Entri, signor Kirk. Prego, si accomodi. Questa crema anti-etard di sua invenzione sembra promettere bene. La sua domanda è stata accettata. Naturalmente si tratterà di un periodo di prova, lo capirà. Ma sì, certo. Adam, si siede, prego. Grazie. Allacci la cintura, signor Kirk. Mi perdoni, cosa... La cintura di sicurezza. La cintura... Ah, giusto. Ha delle domande, signor Kirk? Sì, di che si occupano gli impiegati del mio reparto? Sono semplici adattatori. Adattano i nostri prodotti al vostro mondo. Lei, invece, ha una grande opportunità qui. Vede la politica aziendale, non consente alla gente del mondo di sotto di occupare posti di prestigio. Ma nel suo caso vogliamo fare un'eccezione. Firmi qui, per favore. E ora, un avvertimento. Noi osserviamo scrupolosamente la separazione totale tra i due mondi. Quindi eviti di avere contatti non necessari con la gente del mondo di sopra. Faccia il suo lavoro e andrà tutto bene. Un'ultima cosa. Le regole qui sono piuttosto severe. Lei lavorerà con materiali del mondo di sopra. Questo significa che ogni volta che uscirà dall'edificio dovrà sempre essere perquisito e pesato. Se le troveranno addosso della materia inversa, verrà licenziato e messo agli arresti. Ma sono certo che questo non succederà. Mi sbaglio, signor Kirk? No, signore. Cerchi di non deludermi. Molto bene. Abbiamo finito.